Buongiorno ragazzi, io sono Momo Dugueye della scuola GBC Pani, faccio la seconda A, seconda media, e quella è la mia scuola. Bene, questo video mostrerà qua nel grumo quanti rifiuti buttano la gente. Questo sarà il nostro tavolo dove metteremo i rifiuti che raccoglieremo. Qua possiamo salvare già della plastica. Poi se andiamo avanti, oh guardate, anche la plastica. Questo è un tappo della penna. Ora, se andiamo più avanti, cerchiamo, ecco, là c'è altra carta. Un pezzo di cartone, vedete? Guardate, sigarette, non è igienico prenderlo. E ancora carta, pezzi di cracker, guardate, guardate, altra plastica. Andiamo a metterlo nel nostro tavolo. Qua possiamo osservare plastica, qua mettiamo tutti i pezzi di plastica. Questo è cotone, questo è carta e questo è plastica. Poi dall'altra parte ci sono ancora un sacco di rifiuti. Andiamo a vederlo. Questo è il campo da tennis di San Torso. È il campo numero 5 o numero 1, non mi ricordo di che tipo. Oh, aspettate, aspettate. Un altro rifiuto. Un tappo della Coca-Cola. Ora, se andiamo avanti, non è sicuro prenderlo. Qua c'è del gas. La gente potrebbe farsi male per starlo. Quindi, rimettiamo tutti nel cestino. Andiamo avanti. Ci sono un sacco di pezzi di plastica. Un sacco. Viete? Se guardate qua, c'è ancora un pezzo di... Un pacco di birriaccio di cracker. E un palloncino. Andiamo per di qua. Bene, questo video mostra nei parchi quanti rifiuti ci sono. Ce ne sono un miliardo. Vi do un consiglio. Non inquinate l'ambiente con le spazzature. Buttatelo... Nei cestini pubblichi. Ci vediamo.